Buon pomeriggio le 13.30, venerdì 13.30. Ben ritrovati con Infostudio, è il secondo giorno dell'Italia sotto tutela, dell'Italia intera zona rossa, se vogliamo con questo intendere la misura e l'area di intervento con la stretta più forte che sia stata adottata da quando intorno al 20-21 febbraio è iniziata l'emergenza. Le prime furono quelle di Codogno e della provincia di Padova, di Vaux e Uganeo. Intanto tutto attorno succedono un po' di cose, per esempio le proteste da parte dei lavoratori delle fabbriche, dei loro sindacati che dicono che essi sono stati lasciati soli. La notizia del decreto pubblicato dal Ministro dei Trasporti che conferma la riduzione ad al massimo un aeroporto per regione, c'è l'eccezione di Roma-Ciampino ma per i soli voli di Stato, per razionalizzare, naturalmente visto che c'è una mobilità ridotta, per razionalizzare le strutture da tenere aperte a fronte dell'emergenza, anche perché poi effettivamente negli scali c'è il semideserto. E poi ci sono i numeri che sono quelli che conosciamo, che sono implacabili, che ogni sera attendiamo con un misto di ansia e di preoccupazione, che sono naturalmente quelli sui contagiati, sui morti, purtroppo sulle persone guarite, su quelle in terapia intensiva. In Calabria ci si attrezza, è inutile nasconderlo per far fronte ad un aumento che è scontato, dovrebbe verificarsi nei prossimi 10-14 giorni. Per il momento siamo fermi a un numero ufficiale di 35 contagiati e ufficioso di 40. Questo perché ha i dati del bollettino della regione che ieri sera è stato emesso con un leggero ritardo, ma dovrebbe intervenire intorno alle 18, più o meno l'ora nella quale anche il commissario per l'emergenza Borrelli snoccia i dati nazionali. Si aggiungono altri 5 casi di tamponi trovati positivi, 2 in provincia di Reggio Calabria, 2 in provincia di Crotone ed 1 in provincia di Cosenza. Ma si attende l'esito della controanalisi, del test di conferma. Pertanto per il momento dobbiamo attenerci ad un doppio conteggio del quale vediamo conto nel servizio. Parte il bando per assumere medici. Sono soprattutto specializzati e specializzanti in patologie respiratorie oppure in quella medicina interventistica ed urgenza che serve in casi come questo. Sono 35 le persone risultate positive al test sul coronavirus in Calabria, secondo il bollettino di ieri sera della regione. Al dato ufficiale, come avviene ormai da diversi giorni, se ne affianca un altro che tiene conto delle comunicazioni delle singole aziende sanitarie e che fa salire a 40 il conto delle persone contagiate. Vediamo di andare con ordine. Secondo il bollettino della regione, in Calabria finora sono stati effettuati 360 tamponi. Le persone risultate positive sono 35, quelle negative 325. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti. 5 a Catanzaro, tutti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale pugliese. 10 a Cosenza, 7 dei quali ricoverati in reparto, 2 in rianimazione ed 1 in isolamento domiciliare. 11 a Reggio Calabria, 4 dei quali ricoverati e 6 in isolamento, ai quali si somma il docente universitario guarito. 4 a Vibo Valencia, tutti in isolamento domiciliare e 5 a Crotone, anch'essi tutti in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena volontaria sono 2.382. La maggior parte di esse, 1.053, vive in provincia di Reggio Calabria. 430 nel Cosentino, 396 nel Catanzarese, 363 nel Vibonese e 140 nel Crotonese. Le persone tornate in Calabria dalle zone a rischio e che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5.008. Ai 40 casi ufficiosi si giunge sommando altri due casi di positività a Reggio Calabria, altri due a Crotone e uno a Cosenza, ma per aggiornare il dato occorre attendere il test di conferma. Intanto muove velocemente i primi passi il piano operativo varato l'altro ieri per far fronte all'emergenza, mentre si lavora per attrezzare i posti aggiuntivi di terapia intensiva, che alla fine saranno passati da circa 150 a 400, è stato pubblicato il bando per assumere medici specialisti, specializzandi e anche freschi di laurea, anche non italiani, purché abilitati all'esercizio della professione medica. Si tratta di un provvedimento indispensabile in un frangente del genere. Occorre infatti evitare che gli ospedali restino sguarniti di fronte al possibile aumento dei casi di contagio. I rapporti saranno a tempo determinato e non daranno alcun diritto a un'eventuale stabilizzazione. La durata degli incarichi non dovrebbe superare i sei mesi, ma al momento attuale nessuno può dire se questo sarà sufficiente, tanto che il provvedimento prevede la possibilità di proroga fino a un anno. Inoltre non è previsto un numero preciso di medici da ingaggiare. Lo scopo è infatti quello di costituire un elenco aperto di professionisti disponibili per riuscire a garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie. E comunque non si può non pensare con una punta di amarezza al balletto sugli organici di medici e paramedici andato avanti negli ultimi mesi e al bisogno di incrementare gli organici stoppato sempre da motivi che poco o nulla avevano a che fare con la salute pubblica. Una volta ricevute le manifestazioni di interesse, che dovranno pervenire entro e non oltre il 19 marzo prossimo, la Regione fornirà le indicazioni alle aziende sanitarie affinché queste possano procedere alle assunzioni e al conferimento degli incarichi. Per quanto riguarda le specializzazioni, ovviamente le più agognate sono quelle relative alle patologie respiratorie e legate ad insufficienza delle funzioni vitali, vale a dire anestesisti rianimatori, pneumologi, infettivologi, cardiologi, internisti e specialisti della medicina d'urgenza. Dunque, ripartiamo dai dati, velocemente però rimostriamo la slide che ormai è di ieri sera, questa sera sarà aggiornata i numeri del contagio, 15.113 casi in totale con 12.389 persone positive al tampone, il che non significa malate, lo sottolineo ancora una volta, ma positive, di queste 6.600 sono ricoverate, 5.000 sono in isolamento, 1.258 i guariti, purtroppo sono diventati 1.016 i morti trascinati appunto da questa pandemia a questo punto, quindi un numero a quattro cifre. Ieri il capo della protezione civile, Borrelli, aveva fatto un appello a donare sangue, perché comunque serve in questi casi e la flessione è dovuta al fatto che ci sono molte più persone e pertanto anche molti più donatori che restano in casa. Stavo dicendo prima che la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto per razionalizzare il trasporto aereo, questo perché ormai negli aeroporti c'è poca gente e naturalmente per contenere le emergenze è inutile mantenere aperte delle strutture che poi sarebbero usate soltanto in minima parte, quindi si dispone che per la tutela della salute dei passeggeri e dei lavoratori sono assicurati i servizi essenziali ed in considerazione delle richieste dei gestori aeroportuali, della collocazione geografica eccetera e anche della necessità di garantire i collegamenti sono aperti, resteranno aperti gli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, La Mezzia, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino e Venezia, mentre Roma Ciampino è stata organizzata per i voli di Stato, per i trasporti di organi, per i canadere e per i servizi emergenziali. Dunque, ma era quasi scontato, La Mezzia Terme sarà l'unico dei tre aeroporti calabresi che resta aperto, Crotone e Reggio Calabria, invece da Crotone e da Reggio Calabria non partiranno e non atterreranno voli. È rimessa poi alla valutazione dell'Enac la possibilità di consentire l'operatività degli altri aeroporti, ma questo solo se intervenissero delle esigenze particolari. Tra le proteste che si stanno levando in queste ore da parte delle categorie e delle associazioni di medici e paramedici, c'è da segnalare quella della Federazione Italiana dei Medici Pediatri e dei Medici di Medicina Generale di Continuità Assistenziale di Crotone che fanno sapere che se continueranno a non avere i presidi di protezione necessari, da lunedì prossimo sono disposti ad interrompere l'assistenza ambulatoriale e domiciliare limitandosi al solo triage telefonico. Il calcio è un ambiente, lo sappiamo, molto resistente, abbiamo tanto criticato Lega e Feder Calcio per l'atteggiamento tenuto, ancora di più bisogna criticare la UEFA che ha resistito fino a poco fa, fino a un paio d'ore fa. Sospese adesso la Champions League, l'Europa League, la Ligan e la Premier League si fermano subito, la Bundesliga da martedì, salta l'amichevole Italia-Inghilterra, ma a rischio ci sono anche i grandi appuntamenti dell'estate, ovvero gli europei e poi anche le Olimpiadi, sebbene il Giappone si ostini a dire che si terranno regolarmente nel periodo dato, in quello previsto, ovvero tra la fine di luglio e la metà di agosto, ma è un argomento sul quale in questo momento nessuno può fare previsioni con certezza. Due latitanti sono stati assicurati alla giustizia nelle ultime ore, uno è calabrese, l'altro è campano con forti legami in Calabria, ne parliamo dopo, ma intanto parliamo della cattura di Cesare Cordì che secondo gli inquirenti ormai era al vertice, dopo che i vari vertici sono stati decimati, arrestati, consegnati alla giustizia della omonima Cosca di Locri. Il bagliore di una sigaretta accesa in una villa che si presumeva disabitata alla periferia di Bruzzano Zeffiri in un momento in cui gli spostamenti sono limitatissimi hanno insospettito i carabinieri che lo hanno catturato. Sarebbe stata la violazione del decreto per fronteggiare l'emergenza coronavirus a determinare la fine della latitanza di Cesare Antonio Cardì, 42 anni, arrestato dai carabinieri a Bruzzano Zeffirio in un'operazione messa a segno dai carabinieri delle compagnie di Bianco e Locri e dello squadrone Cacciatori da Spromonte, esponente di spicco dell'omonimandrina di Locri, Cordì era latitante dall'agosto scorso quando era riuscito a sfuggire alla cattura nell'ambito dell'operazione riscatto dell'agosto scorso che aveva rivelato l'influenza e il potenziale intimidatorio che la cosca esercitava, controllando diversi settori commerciali, dalla distribuzione del pane ai servizi cimiteriali fino all'imposizione di una tangente del 3% su qualsiasi appalto pubblico. Cesare Cordì era nascosto in una villetta che sulla carta avrebbe dovuto essere disabitata in una zona periferica e isolata di Bruzzano. I carabinieri sono stati insospettiti dai movimenti attorno all'edificio, specie in questi giorni di limitazione ai movimenti non giustificati da necessità. L'uomo ha tentato di fuggire attraverso un ingresso secondario ma è stato bloccato e arrestato. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dai sostituti procuratori Giovanni Calamita e Diego Capece e Minutolo, andavano avanti da tempo. Gli inquirenti erano sicuri che Cordì non si fosse allontanato molto da Locri e si sono concentrati su una zona limitata, confidando che sul bisogno di rifornirsi di cibo del fuggiasco. Figlio del boss Antonio, Cesare Cordì era considerato un personaggio il cui peso specifico era aumentato all'interno della cosca. Cordì è indagato per trasferimento fraudolento di valori. Le indagini ora proseguiranno per provare a ricostruire la rete di aiuti e complicità che ha favorito la latitanza di Cordì. L'operazione condotta questa notte dai carabini del gruppo di Locri assieme ai caccioli di Calabria rappresenta un colpo durissimo nei confronti del clan Cordì e Gemone sul comune di Locri. Cesare Cordì si era reso attitante nel mese di settembre ed in questo momento era l'elemento di vertice di questo clan che si era reso responsabile dei maggiori episodi criminali nella Locri. E' stato determinante anche questa volta la raccolta informativa di tutti i presidi dell'arma dei carabinieri che sono presenti in quasi tutti i comuni della Locri. Era l'uomo di fiducia del boss catanese Salvatore Cappello, tant'è che proprio insieme alla sua compagna che ha concluso trattando con i narcotrafficanti sudamericani l'acquisto di ingenti quantitativi di cocaina Stefano Rubino che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Napoli in Ecuador naturalmente con la collaborazione delle autorità di polizia locali. Dicevo Rubino avrebbe acquistato grossi carichi di cocaina che poi avrebbe rivenduto soprattutto alla cosca Pelle Vottari di San Luca. Nel 2016 era stato coinvolto nell'operazione Ermes ed era latitante dal giugno del 2018 quando era sfuggito a un'ordinanza di custodia cautelare richiesta nei suoi confronti dalla procura antimafia di Reggio Calabria. L'operazione che ha portato alla sua cattura ha coinvolto anche altre persone, sono tutte di origine campana e ai finanzieri che lo hanno fermato Rubino ha mostrato un documento di identità rilasciato dalla Colombia, cioè dalle autorità colombiane. La conferma della sua identità si è poi avuta riscontrando i tatuaggi descritti in un rapporto dell'Interpol. Adesso appena sarà espletato l'iter diplomatico Rubino sarà estradato in Italia. È stato sospeso per un anno dall'esercizio della professione un medico ortopedico dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro per l'ipotesi di reato di truffa e fraudolenta attestazione di presenza in servizio. Se le immagini sono esterne, queste sono improprie, attengono più all'area coronavirus, non c'entra niente. Il provvedimento, che comprende anche una confisca di beni per poco meno di 19 mila Euro, è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura di Catanzaro. Le indagini risalgono al periodo tra marzo 2014 e febbraio 2015, quando il professionista era stato inviato in una clinica di Milano, del milanese meglio ancora, per aggiornamento e aveva prodotto false certificazioni di presenza e dichiarato falsamente di aver effettuato interventi chirurgici. Inoltre si sarebbe reso protagonista di numerosi episodi di assenteismo. In realtà, durante il presunto orario di lavoro, aveva svolto attività libero professionale. I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari a Cosenza due persone, due uomini di 30 e 60 anni, sono entrambi con precedenti penali, che approfittando del decreto che ha imposto la chiusura dei locali, hanno rubato in un ristorante cinese. In due occasioni sono riusciti a entrare il più giovane, l'altro faceva da palo e lo documentano anche le telecamere di videosorveglianza. Nella prima circostanza è riuscito a portare via diversi prodotti alimentari, si nota nelle immagini un uomo che forza la porta d'ingresso, poi con un carrello lo riempie, il carrello porta via quante più derrate può. Nella seconda è stato sorpreso da alcuni dipendenti e dai gestori che hanno chiamato i carabinieri e il servizio di vigilanza privata, hanno tentato di fuggire i due ma sono stati raggiunti ed immobilizzati. È arrivato il momento di Io scelgo Calabria. Al prossimo episodio Un'intera sezione dedicata ai reperti ritrovati nell'edificio B, che potrebbe essere il più antico luogo di culto dedicato ad Eralacinia sul promontorio di Capocolonna. Un autentico tesoro nel quale spicca il pezzo più prezioso e conosciuto di questo museo. È il diadema Aureo di Era, un autentico capolavoro miracolosamente scampato a secoli di saccheggi e scavi clandestini. La scoperta risale alla seconda metà degli anni Ottanta. Tra 87 e 89 è stata condotta una importante campagna di scavo diretta dal dottor Roberto Spadea, che è stato prima di me direttore di questo museo e che ha individuato la presenza innanzitutto di un edificio, quello che noi abbiamo, che gli archeoli hanno definito edificio B, proprio in riferimento al fatto che è il secondo edificio dopo quello più importante della colonna del Tempio A. All'interno di questo edificio è stato trovato il diadema assieme a una numerosissima quantità di reperti, di oggetti che non sono altro che degli ex voto, oggetti di varia natura e provenienza, in bronzo, in ferro, in piombo, in argento, in ceramica e provenienti da varie parti del Mediterraneo. Quindi la riprova che questo santuario era frequentato da tutto il mondo allora conosciuto, potremmo dire. Un santuario molto importante e per cui un diadema, un oggetto di questa natura rientra adeguatamente in questo contesto. Il momento in cui è stata trovata, mi raccontano perché non ho avuto la fortuna di scoprirlo io, questo oggetto, che è stato trovato così integro come lo vediamo. Soprattutto la qualità del metallo non si è trasformata nel corso dei secoli, quindi ha veramente un carattere quasi magico. E poi la bellezza dell'oggetto in quanto tale, la raffinatezza dell'esecuzione, la lamina che è battuta dall'interno e che riproduce questa treccia, che non è meno bella rispetto ai certi vegetali che lo circondano su tutti i lati. E poi questa presenza delle piante che deve avere un significato proprio in un santuario in cui si diceva che ci fosse, quello di Eralacinia, sul promontore di Capocolonna, ci fosse un bosco sacro alla divinità. Quindi una dea legata alla natura, agli animali e alla vegetazione. Il telegiornale termina qui, per il momento torna alle 19.15. Vi ricordo tgcal24.it e dopo di noi, prima la profaziata del giorno con Otello Profazio, poi la nuova puntata di Parliamoci Chiaro con Paolo Marra. A più tardi.